Non riesco a non perdere il controllo, io provo a scrivere tutto quello che voi mi dite, ma sento il suo dolore. Probio e rassegnazione, cosa scatenano? Sangue. E' questo quello che provi? Ogni giorno. Ho cominciato a sentire le voci giorno dopo giorno, ho dato loro dei nomi, conosco i loro caratteri, le loro storie. Dario, aiuto mi. Non ti vedo. Allora lascia che sia io a vederti. Ciao. 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 Ciao.